Videosorveglianza all'Aquila se ne parla da almeno 5 anni, da quando cioè la ricostruzione della città ha ingranato la marcia e la vita in centro storico ha ricominciato a riprendere la sua dimensione di normalità. La movida, il rientro di alcuni uffici pubblici, i palazzi ricostruiti a fianco alle stesse zone rosse ancora buie e disabitate. Dopo gli ultimi episodi di furti, risse in centro storico e atti vandalici, la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza tenuto in Prefettura ha assicurato che all'Aquila non c'è alcun allarme sicurezza, ma la percezione dei cittadini è opposta. Torna dunque a farsi strada l'idea di realizzare un sistema di videosorveglianza diffuso in tutto il territorio comunale, periferie e frazioni comprese. I soldi ci sono, poco più di 4 milioni di euro provenienti dai fondi per la ricostruzione. Pronti anche l'atto preliminare e lo studio di fattibilità che l'assessore alla protezione civile Fabrizio Taranta vorrebbe portare in giunta nel più breve tempo possibile. Da monitorare soprattutto monumenti e luoghi sensibili, ma anche i principali punti di accesso alla città. Una città come l'Aquila oggi la videosorveglianza è fondamentale perché molte zone la gente ancora non fa ritorno nelle proprie abitazioni, quindi alcune zone d'ombra diciamo così, quindi la videosorveglianza è necessaria sicuramente a monitorare quello che succede nella città per garantire la sicurezza dei cittadini, anche se comunque voglio tranquillizzare tutti i nostri cittadini perché da quanto è emerso anche negli incontri fatti in prefettura sia con le forze dell'ordine e di pubblica sicurezza non c'è una reale emergenza, non ci sono atti ripetuti ma singoli episodi che sono comunque stati individuati dalle forze dell'ordine e i responsabili individuati. La videosorveglianza verrà collocata sicuramente negli ingressi della città, ora verrà demandato a chi poi dovrà mettere in piedi tutto il servizio, la progettazione definitiva, però dicevo sicuramente gli ingressi nella città, punti più sensibili, tipo monumenti più importanti, San Bernardino mi viene in mente, i portici, la fontana luminosa, i parchi, insomma quelle zone più sensibili e più attenzionate. Intanto nei giorni scorsi la denuncia dei residenti del progetto case di Sant'Antonio sono preoccupati per i continui furti anche in pieno giorno. Per Taranta la situazione è sotto controllo e garantisce maggiore presenza del Comune e delle forze dell'ordine sul territorio.